Vi voglio segnalare che il Teucrum è fiorito già adesso. Il Teucrum frutti canso è una pianta che noi utilizziamo tantissimo nei giardini. Se avete un angolo sfortunato, al sole, roccioso, quasi un giardino roccioso, questa è la pianta che fa per voi. È resistente al gelo, è sempre verde, in odio d'Italia, nel senso che si prende la gelata forte, tende a perdere qualche foglia, mette nelle zone più riparate, anche vicino a casa, contro il muro, nelle zone a sud, tende a non perdere la foglia. È molto bella, è molto facile. L'unico accorgimento è evitare di irrigarla troppo. Però è una pianta che noi utilizziamo tantissimo, insieme alla lavanda, insieme a altre piante molto resistenti alla siccità e al sole.